La rivoluzione arriva a marzo perché la legge 39 che parte dal 2017, mediante i regolamenti, ha dato attuazione appunto a quest'anno. E se il presidente dell'azienda territoriale, edilizia residenziale della marca, parla di rivoluzione c'è da crederci. Del resto non può essere che un cambiamento epocale, partire non più dal reddito dichiarato ma dall'Ise per il calcolo dei titoli per l'assignazione di una casa popolare. Il reddito era utilizzato sino a quando il deputato veneto Luigi Luzzati inventò nel 1903 le case popolari per tutta l'Italia, portando a Roma l'esperienza veneta degli istituti comunali per gli alloggi minimi. Ad oggi l'ex IACP trevigiano conta in 5.000 le case popolari nella marca. E per tutte queste famiglie, ma anche per quelle in lista, per un'assegnazione, tra poco più di un mese cambierà così. A marzo cosa succederà? Succederà che agli inquilini in possesso dei requisiti li verrà rinnovato il contratto e altresì li verrà ricalcolato il canone. Sono due paletti fondamentali. C'è un canone comunque minimo che sarà di 40 euro. E il canone massimo, sempre legato all'ISERP, non potrà comunque superare del 25% di questo valore. Agevolate quindi le famiglie numerose che potrebbero avere una riduzione del canone. E questa è una parte della rivoluzione. L'altra riguarda la permanenza nell'alloggio. Se voi ricalcolate tutto in base all'ISERP, se io potenzialmente, diciamo così, ho fatto fortuna, cosa faccio? Devo lasciarla a casa Ate? Beh, l'ISERP è l'indicatore di situazione economica equivalente. Quindi dimostra il fatto se in che tipo di fascia di povertà sei o se sei nella fascia di ricchezza. Mentre magari con l'imponibile questo non era possibile. E qui sta la vera rivoluzione per chi magari è in possesso di un'altra abitazione o altre proprietà di valore, come ad esempio un'auto di lusso, che però non fanno reddito, ma ora contribuiranno nel calcolo dell'ISERP. Come dire, i furbetti dell'alloggio popolare sono avvisati. L'ISERP massimo è 20.000 euro, questo è un requisito. Quindi oltre ai 20.000 euro automaticamente non si ha diritto né a partecipare ai bandi né come non è neanche più un requisito di permanenza.